Il gatto professore. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il tipo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava, topolino corri in fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così, non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua, ma non il professore.